Buongiorno a tutti e benvenuti al vostro canale. Oggi rispondo a un'altra domanda che chiede come distinguere la tipologia flyback a quella forward. Prima spiego cosa sono, come funzionano e come è possibile distinguerle visivamente. È da sottolineare che entrambi sono un regolatore isolato. Un regolatore isolato è un tipo di alimentatore o convertitore di potenza che fornisce una tensione di uscita regolata e isolata elettricamente. Dalla tensione di ingresso, l'isolamento elettrico è ottenuto tramite un trasformatore o un accoppiamento ottico, tipo questo, che separa fisicamente il circuito primario, lato ingresso, questo è il lato ingresso, il lato ingresso è questo, dal circuito secondario lato di uscita, questa parte e questa parte. Esistono varie tipologie per questo tipo di regolatore, quali flyback, forward, push-full, half-bridge, full-bridge. In un video separato parliamo di altre tipologie, ma adesso ci concentriamo sulla flyback e forward. Ora inizio a disegnare il circuito. Prima sottolineo che i circuiti che disegno sono degli esempi semplificati per dimostrare il principio del funzionamento. Prima convertitore flyback. Un convertitore flyback opera in due fasi distinte. è la fase di accumulo di energia. Prima fase. E la seconda fase, trasferimento di energia. Durante la fase di accumulo, l'interruttore, cioè il MOSFET, è chiuso, cioè è on. E l'energia viene immagazzinata nel nucleo magnetico del trasformatore sotto forma di campo magnetico. Il diodo di uscita sul secondario è polarizzato inversamente, perché, come vedete, l'avvolgimento primario e secondario sono stati avvolti nella direzione opposta. Cioè, questo piccolo puntino dimostra il lato di avvolgimento. Uno è stato avvolto in una direzione, l'altro è stato avvolto nell'altra direzione. Perciò, visto che qua abbiamo positivo e negativo, nella prima fase qua abbiamo positivo e negativo. Anodo, catodo. In questa fase la corrente nel primario aumenta linearmente, mentre la tensione sul secondario è nulla. Perché è nulla? Perché, essendo negativo sull'anodo del diodo, l'energia non viene trasferita, perciò viene soltanto immagazzinata nel core del trasformatore. Nella seconda fase, che si chiama trasferimento di energia, l'energia immagazzinata nel nucleo magnetico viene trasferita al secondario. Il diodo di uscita si polarizza direttamente, permettendo alla corrente di fluire nel secondario e caricare il condensatore. L'interruttore è spento, perciò questo trasformatore, che sta facendo da immagazzinatore dell'energia, cioè diventa un induttore, cosa fa? Non avendo il collegamento tra positivo e negativo, deve mollare l'energia accumulata dentro di sé. Perciò, dentro l'induttore cambia la polarità, qua diventa positivo, qua negativo, e di conseguenza qua negativo e qua positivo. A questo punto, il positivo sta sull'anodo del diodo e l'energia viene trasferita nel secondario. Perciò, nella prima fase abbiamo accumulo di energia, nella seconda fase abbiamo il trasferimento dell'energia e abbiamo l'energia, cioè la tensione in uscita. Vediamo come funziona forward. Anche il convertitore forward opera in due fasi principali. Prima fase e la seconda fase Nella fase di trasferimento di energia il MOSFET è acceso permettendo alla corrente di fluire attraverso l'avvolgimento primario del trasformatore. L'energia viene trasferita direttamente dal primario al secondario. Il diodo è polarizzato direttamente permettendo alla corrente di fluire verso l'induttore di filtro e dopodiché il carico. Anche qua, come flyback, ci sono i condensatori che stabiliscono la tensione nella uscita. Rimane la seconda fase cioè smagnetizzazione. In questa fase il transistore si spegne o il MOSFET, l'interruttore interrompendo la corrente nel primario. Perciò una volta spento qua non c'è più la corrente. L'energia residua nel nucleo del trasformatore deve essere smagazzinata per evitare che entra nella saturazione il trasformatore. Qua rientra un circuito che si chiama circuito RESET oppure RCD permettendo alla corrente di circolare e smagnetizzare il nucleo. Farò un altro video per questo RCD. Andiamo avanti. Ora vediamo come distinguerli visivamente. Qua abbiamo un alimentatore flyback e un alimentatore forward. Come abbiamo detto sul flyback abbiamo solo un trasformatore che fa anche da induttore che immagazzina l'energia. Funziona sia come trasformatore che come induttore. Infatti qua nell'uscita come vedete non esiste un altro induttore. Nel mentre forward dopo il trasformatore abbiamo un induttore come vedete viene anche distinto con la lettera L induttore. Cioè questo oltre il trasformatore ha anche un induttore. Il trasformatore dell'alimentatore flyback spesso ha un traferro nel nucleo per immagazzinare l'energia magnetica. Apro i parentesi. Un traferro in inglese si dice air gap è un piccolo spazio d'aria intenzionalmente creato nel nucleo magnetico. Guardate qua sposto questa roba. Perché non fa il contatto in mezzo? Questo è un traferro air gap. Questo spazio è realizzato interrompendo la continuità del materiale magnetico che costituisce il nucleo. Sempre nella flyback di solito l'interruttore che in questo caso è un MOSFET è situato vicino al trasformatore. Questo componente controlla il flusso di corrente attraverso il trasformatore. Poi abbiamo il diodo. Questo è un shot key diodo shot key è il diodo di uscita il diodo è posizionato tra il trasformatore e il condensatore di uscita perciò questo è il lato di uscita questo trasformatore sono i condensatori in uscita qua abbiamo il diodo e come abbiamo detto questi condensatori filtrano e stabilizzano la tensione di uscita. Un altro fattore da vedere generalmente il regolatore flyback ha meno componenti rispetto a quello forward è da sottolineare che il regolatore flyback viene utilizzato per applicazioni a bassa potenza nel mentre il forward è adatto per applicazioni a media potenza. Nella tipologia forward il trasformatore non ha un traferro in uscita abbiamo un induttore oltre il trasformatore e utilizza anche il circuito rcd qua davanti all'interruttore cioè il mosfet abbiamo il circuito rcd e questo circuito esiste sull'alimentatore forward sulla tipologia forward alla fine come vedete avendo uno al fianco dell'altro si può già capire che questo è un flyback e questo è un forward perché questo ha meno componenti bisogna sempre cercare un induttore in uscita se c'è l'induttore è forward non può essere flyback qua flyback non c'è ovviamente prima di partire a distinguere quale flyback o la tipologia bisogna distinguere quale è uscita qual è l'ingresso e guardare bene i due circuiti cercare il filtro rcd cioè questo filtro che ne parliamo in un altro video è fondamentale questo si trova solo nella tipologia forward ok ragazzi negli schemi che ho fatto nel video li trovate qua sotto scrivetemi nei commenti che cosa volete sapere nell'elettronica cerco di spiegarlo semplice e breve ci vediamo alla prossima buona giornata